Il risultato è una del risultato che ha un'esercizionata in cui si ci ha insertato un'esercizionata tra giudizio tecnico e giudizio del, virgolette, popolo. Ti parlo proprio degli enti, gli enti da Banca Italia all'Istat, alla Corte dei Conti, ma dove erano questi signori quando si è costruito il più straordinario debito pubblico? Dov'erano tra il 2011 e oggi quando sono cresciuti di 407 miliardi i debiti degli italiani? Eravamo a 1900, sembrava terribile quel 1900, no? E improvvisamente arriva Monti, Monti Moretti non ha fatto una manovra per far crescere l'Italia, ha fatto una manovra che ha affossato l'Italia, non c'era una misura per farla crescere, erano tutte tasse, non c'erano elementi per sviluppare il lavoro, erano tasse. Eppure l'avete votata e l'hanno approvata tutti. Non c'erano dei provvedimenti di prospettiva per la crescita, c'era la decrescita e per giunta infelice. Allora Giannini, parla. Ma è evidente che la gente non è d'accordo con questi figli.